Stavo guardando, come molti di voi, la finale Malong Fan Zendong degli Open di Cina. E la cosa che ti colpisce è che ad un certo punto c'è Malong che fa un palleggino di dritto, ok? Il palleggio è il colpo più difensivo del ping pong, capito? Il palleggino non è boom, un top di dritto, no, è un palleggino tic tic. E dall'altro lato il suo avversario sbaglia. Il contesto importante da comprendere è che il suo avversario Fan Zendong è una macchina da guerra. È uno che tira un top di rovescio a 300 all'ora, top di dritto a 300 all'ora, c'ha due gambe così che sembra un motorino ed è uno che non sbaglia mai la palla facile. E allora mentre guardavo il tutto la tentazione era quella di pensare ah vedi se anch'io esigo il palleggino di Malong anch'io potrei mettere in difficoltà quell'altro giocatore. La verità è che questa deduzione è una gran cazzata perché è fuori dal contesto. È quello che mi piace definire l'abbaglio del dettaglio. Mi piace definirlo così perché fa rima. Funziona così l'abbaglio del dettaglio. Che estrapoliamo, e io lo faccio in continuazione sul lavoro questo errore, delle conclusioni totalmente sbagliate. Perché se togli quell'elemento al di fuori del suo contesto salta tutto. Nel caso del nostro amico Malonghi il motivo per cui lui fa così tanti punti palleggiando non è che ha un palleggio pazzesco. Sì ovvio che ha un palleggio pazzesco, è bravissimo eccetera eccetera. Sì ovvio che magari palleggia in un certo modo quando uno si aspetta magari una palla corta arriva lunga o cambia il piazzamento o altre variabili. Ma il motivo vero è che nel suo contesto complessivo, quando ci giochi contro, sai che se tu su quel palleggio non fai qualcosa di meraviglioso, questo ti tira via anche le orecchie perché ti ha una bomba a 300 all'ora e ti spazza via, ti sventola via tutta la tua parte del campo. È il contesto complessivo. Se hai quello stesso colpo, quello stesso palleggio, lo fa un altro giocatore, vedi che quel fan zendon di turno non sbaglia, perché non ha quell'angoscia addosso data dal contesto complessivo di giocare con lui. È un po' come dire, Steph Curry, guardatele sulle finali NBA ad esempio, ogni due minuti Curry arriva, tac, fa una fintina e vedi i giocatori che saltano completamente fuori posizione. Sembra Jackie Chan, no? Sembrano delle comparse. Dici ma com'è che abbocchi così alla fintina? In quel caso è la stessa roba. È ovvio che Curry fa un'ottima finta, ma il problema è che il giocatore è talmente preoccupato dal fatto che Curry se lo lasci tirare, fa tre anche tirando fuori dal palazzetto dello sport, che sei obbligato a saltargli addosso e cercare di fermarlo e quindi una semplice fintina ti fa saltare via come un carciofo qualunque. È il dettaglio dell'abbaglio. Vi do un altro esempio, influencer. Sentivo parlare un tizio che diceva, ah vedi adesso è facile perché tutti possono diventare influencer. Basta pagare, la riccia organica è cambiata, no? Sulle piattaforme, in realtà non è vero ma diciamo hai cambiato e cambiano sempre gli algoritmi e quindi tu per avere visibilità devi pagare. Allora a quel punto chiunque basta che paghi e diventa bravo. Ed è il dettaglio dell'abbaglio. Non è vero. Se bastasse pagare, tutte le aziende con un budget, quindi tutte le aziende del mondo, tutti i professionisti del mondo, chiunque abbia soldi, sarebbe un super influencer, sarebbe con decine di miglia di follower. La verità è che non è così. Ma se non sei competente e non entri nel merito di queste dinamiche, chiaramente pigli la parte più facile da estrapolare e ne tiri fuori una regola generale. È la mancanza di contesto nella nostra valutazione che rende totalmente inutile, nella maggior parte dei casi, i libri che leggiamo, le formule, i metodi, i frameworks, non funzionano perché estrapolati da quel contesto non vogliono dire niente. Magari una formula di marketing funzionava in un certo momento storico, poi l'ha fatta a tutti e non funziona più. Oppure uno in buona fede, pensate a quello che faccio io spesso, espone un metodo e dice guarda io ho fatto così, ma non è detto che funzioni allo stesso modo per te, perché è cambiato il mento storico, perché le variabili sono diverse. Ma il contesto complessivo che devi considerare. Pensate a altri canali che esplodono, ma magari è uno che fa gameplay e cinque suoi amici hanno già degli altri canali di gameplay che lo segnalano e quindi lo vedi crescere e dici cazzo questo è un fenomeno. È un fenomeno, magari sì, però ha un contesto che lo aiuta a crescere. Se togli quello dall'equazione la tua valutazione è sempre sbagliata, è sempre alterata. Non puoi non considerare tutte queste variabilette. Ogni volta che spegniamo la luce del contesto dalla nostra equazione finiamo per fare delle scelte del cazzo e finiamo per piangere nel buio della nostra cameretta. Ma come dice il saggio Bergonzoni, quando vedo un uomo che piange nel buio della sua cameretta, mi domando cosa lo spinga a non accendere la luce.